Ciao ragazzi, ho iniziato a questo nuovo video per la seconda volta che registro questo video perché ho cliccato sempre sulla notifica, sbatate i shon Allora, partiamo a bomba, iniziamo a bomba Tutte le cose che ho detto prima sono sparite nel nulla perché si è interrotta la registrazione Allora, ci tengo a dirvi che vi ringrazio con tutto il mio cuore per tutti i commenti che mi avete scritto per la gente che mi ha detto non dire che alcuni utenti mi hanno scritto non dire che non hai amici siamo nella tua famiglia, amici cioè vi ringrazio tutto me stesso scusate qua ma i capelli compreso li devo lavare Allora, voglio fare un discorso aperto più sfogo Allora, questo video si intitolerà chiacchiere più sfogo Allora, ho visto un piccolo non mi piace sull'altro video non so se c'è ma comunque voglio fare uno sfogo integrato a un video chiacchiere Io, allora, vi invito questa gente non me ne frega proprio nulla dei vostri non mi piace potete fare di tutto crearmi l'account che io vi blocco e questo è un discorso aperto perché i video sfogo non li ho più fatti ne volevo farne uno ma ho detto possiamo anche lasciare perdere perché questa gente qua non capisce nulla oppure sono tutti in cervello oppure non lo so io veramente non ho detto che mi incacchio per queste cose perché non lo so voglio star tranquillo con questo hobby qua non potete ostacolare le persone voglio portare i contenuti ed è giusto che io vada avanti niente poi altro poi poi di altro cosa c'è ah ecco al mare porterò la gopro il telefono cioè poi registrerò il col telefono questo il fanotto e ho detto la marca vabbè non è che sarà tutto sto gran casino poi porterò la gopro che farò qualche vlog la sera ben editato lo editerò a casa e spero che vi piacciono anche quelli in futuro e allora il giorno che arriverò penso sicuramente di fare un video dal mare sperando che non piova perché se piove sono cagli sennò ve lo faccio in camera vi dico sono arrivato e poi ho messo anche la domenica di giorno di pubblicazione qua se c'è qui luce come giorno di pubblicazione c'è anche la domenica volendo si può anche fare posso anche farlo di domenica se volete ovviamente faccio un piccolo vlog un piccolo vlog perché ho notato che molta gente c'è su youtube non è totalmente morto non sono tutti in ferie questo video però beh che stanno tornando però non lo so però tranquilli che tranquilli che fate le vostre ferie tranquilli i video non sono un problema io a me a me sapete che a me piace fare video anche quando sono in vacanza sapete sapete perché anche io adoro il mare però c'è tanti che dicono io non li faccio per vostra scelta però io li faccio per portare dei contenuti per portare dei contenuti fighi magari si può essere dei contenuti belli magari si può anche fare però non lo so ma libera scelta di altri sempre poi c'è stato anche un contrattempo perché per il video che dovevo fare oggi è stato un contrattempo devo farlo in piscina ve lo faccio giuro giovedì se non c'è un altro contrattempo giovedì perché due contrattempi ho voluto sempre di mio pugno non c'è un po' a stare ma che c'è un contrattempo e allora in realtà perché mi vergogno non voglio andare a fare il video perché mi vergogno mi sembra un pazzo dopo come spiaggia che già io vloggando davanti a delle persone registrando davanti a delle persone mi vergogno perché magari questi dicono è pazzo è pazzo non lo so un'idea mia non lo so ditemi cosa ne pensate qua sotto e mi invito sempre ad attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche perché o se non ce l'avete attiva sfuggono o se non ce l'avete attiva il server è impappinato intasato di roba non lo so invia troppe notifiche cioè non è che puoi inviare mille notifiche va bene niente spero che il video vi sia piaciuto almeno spero che posso tengo fermo spero allora la cosa mi sta venendo che è la passione da ragazzuoli di fare i video in macchina ho provato a mettere il telefono sul cuscotto della macchina però ho lo stenerlo si vedevano le mie manine però ho detto si vedevano si vedevano e allora no è uscito anche figo perché perché boh non lo so ci vorrebbe uno stabilizzatore fermo che ti blocchi cioè che ti blocchi per 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 registrare in modo tale che non si muove il telefono però però tutta cosa costa però molta gente fa anche i video sulle autostrade le le cioè non voglio copiare però dopo le le li veloci e roba del genere però magari non riuscivo a tutta cosa ne pensate scusate se ho messo il telefono così ma non so come mai va beh questo qua è un video che dice un po' sfogo perché perché io questi haters qua quando fanno account non mi piaccio niente spero che il video vi sia piaciuto sotto ci sono i miei link attivate la campanella spero che vi sia piaciuto tutto il video se non avete visto gli altri video che ho pubblicato andateli a vedere se riuscivo me li potevo mettere nella i qua però non so devo fare dei montaggi ecco spero che però anche non mi va a me di fare i montaggi infatti come vedete i miei video sono fatti normali e non li edito cioè vi dico la verità non li edito tanto perché mi piace anche farmi vedere come sono così però niente spero ciao spero che vi sia piaciuto attivate la campanella sotto ci sono i link ciao alla prossima